Biccari non crede all'inchiesta che vede quattro sue maestre accusate di maltrattamenti ai danni di sei alunni e lo ha detto pubblicamente. Oltre 150 infatti le persone che si sono incontrate manifestando solidarietà alle maestre accusate nelle scorse settimane di violenze fisiche e psicologiche nei confronti di alcuni alunni di una scuola primaria del piccolo centro dei Monti Dauni. Tra le persone presenti alla manifestazione anche alcuni genitori di alunni ed ex alunni delle stesse indagate che hanno espresso la propria solidarietà e vicinanza alle maestre. E chi si è sempre detto perplesso sulle accuse nei confronti delle maestre è stato lo stesso sindaco di Biccari Gianfilippo Mignogna che era presente alla manifestazione. Intanto però le quattro maestre restano ai domiciliari. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Armando Dello Iacovo che ha rigettato la richiesta di scarcerazione per le quattro avanzate dai loro legali. Per il GIP non sarebbe stata scalfita la prova regina ossia le immagini registrate in quelle aule della scuola di Biccari in cui si vedrebbero le violenze messe a segno delle maestre contro i sei alunni.